Auto in fiamme questa notte in via Belluno a Battipaglia. L'incendio ha interessato l'utilitaria di un ragazzo del posto, giunto immediatamente in loco per verificare quanto accaduto. Ad intervenire i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme. L'incendio, stando ai primi rilevi dei caschi rossi, sarebbe legato ad un atto vandalico privo di connessioni con il proprietario dell'auto.